Una polemica durata quasi tutta l'estate che aveva prodotto anche un'interrogazione da parte dei consiglieri comunali di Casa Civica che chiedevano come mai il pontile, chiuso a marzo, all'improvviso in piena estate fosse stato riaperto senza che venissero eseguiti quei lavori di manutenzione messa in sicurezza tanto attesi. A fare luce sulla vicenda ci ha pensato il vice sindaco di Roseto, Simone Tacchetti. Casa Civica chiedeva sostanzialmente quali atti fossero stati adottati per la chiusura e per la riapertura. Sostanzialmente nessuno perché Casa Civica deve sapere che non essendo un'area adibita a circolazione ma un bene del comune così come qualsiasi altro bene può essere transennato, chiuso come cantiere per normale manutenzione e poi riaperto alla fine della stessa. Vero è che a marzo fu fatta una segnalazione alla Polizia Municipale nella quale si segnalava il distacco di un piccolo cancello situato sul pontile al che il dirigente fece transennare la struttura in attesa di verifiche. Nel frattempo poi è stata data in carico di una ditta per fare delle prove di carico e delle prove di trazione per verificare la tenuta della struttura, cosa che poi si è verificata e quindi è stata riaperta al pubblico la struttura. Resta il fatto che il pontile, la cui realizzazione risale agli inizi degli anni Ottanta, ha bisogno di una serie di interventi di manutenzione ma soprattutto di ristrutturazione visto che ci sono parti che cadono a pezzi. Un intervento radicale ipotizzato già dal consigliere comunale del PD Giuseppe Di Sante il quale ha redatto un progetto che prevede oltretutto il recupero dell'intera area a ridosso dello stesso pontile. Serve però un finanziamento perché il comune ad oggi non è in grado di far fronte alla spesa. Noi abbiamo già un progetto che è stato redatto gratuitamente da un professionista locale nonché consigliere comunale e stiamo aspettando il finanziamento da Regione Abruzzo perché da soli non ce la facciamo, parliamo di un importo che si aggira attorno alle 500 mila euro per cui anche qui aspettiamo un finanziamento che potrebbe ridare splendore ad un'opera che è simbolo di questa città.